Ciao ragazzi bentornati sul canale! Sono da poco iniziati i saldi e mi sembrava giusto dedicare un video su quei brand di moda sostenibile che vendendo online offrono anche dei buoni sconti in modo che un po' tutti ne possiamo approfittare Vi mostrerò una ventina di marchi, la maggior parte sono nuovi, non ne ho mai parlato quindi guardateli tutti perché ci sono tantissime novità Vi lascio al video e ci vediamo al prossimo, ciao! Iniziamo subito, come vedete mi sono preparata qua sopra tutti i siti di cui voglio parlare adesso Partiamo con un marchio famosissimo, PeopleTree, che è un marchio inglese, vedrete che tantissimi marchi che vi faccio vedere oggi sono inglesi Io acquisto sempre da loro durante i saldi perché altrimenti hanno dei prezzi inaccessibili per me E quest'anno vorrei comprare tutto, già queste tre cose me le comprerei, non mi servono quindi non le comprerò Però anche questo quanto bello! Insomma anche il vestitone, mi piace tutto Da loro io ho comprato maglioni più che altro, però come potete vedere c'è un pochino di tutto, maglieria, vestiti E in questo caso anche qua vedete maglioni, anche quest'anno hanno messo in saldo i maglioni Io li ho comprati tramite Esos, dopo vedrete che vi farò vedere anche Esos perché anche Esos EcoEdit vede PeopleTree Poi passiamo a Nomads Clothing, anche questo è un marchio inglese State sempre attenti alle policy di shipping and returns, quindi cercate di capire se in Italia effettivamente fanno lo shipping Tutti quelli che vi mostro oggi dovrebbero sì spedire in Italia Come vediamo anche Nomads ha tante cose in sconto Il tipo di stile di vestito è un po' diverso, sono molto spesso tuniche in jersey o cotone Però i saldi possono essere interessanti anche in questo caso perché si arriva fino al 50% off Passiamo ad un altro marchio, Lazzari, che è un marchio tutto italiano, è un marchio che io adoro per lo stile Sapete che ho avuto anche un problema con un maglione, tra l'altro lo dico anche qui perché ne avevo parlato sulle Instagram Stories Ma tantissime si sono perse il discorso Alla fine abbiamo risolto che il maglione che si era bucato nel giro di poche settimane Le l'ho ridato e loro mi hanno riborsato tutti i soldi del maglione Di Lazzari io vi consiglio di approfittare dei saldi perché è un marchio medio caro E con i saldi insomma si riescono a comprare delle cose molto belle a prezzi abbastanza buoni Quindi vedrete che i saldi che vi mostro oggi sono per lo più di marchi che altrimenti sarebbero quasi inaccessibili Ad esempio anche questa culotte, sono troppo carine le cose di Lazzari, come si fa a non innamorarsene? Infatti è un po' controproducente fare questo tipo di video perché mi verrebbe da comprare tutto Poi sono abbastanza brave, vedrete che non comprerò niente Però insomma come vedete lo stile è proprio carinissimo, iper moderno, femminile, molto dolce Anche questa jumpsuit è carinissima Poi sempre un marchio inglese, come vi dicevo prima, un sacco di marchi inglesi perché in Inghilterra sono molto avanti con la sostenibilità Anche in America in realtà, ma vi ho messo pochi brand americani perché in realtà magari non spediscono in Italia Oppure dovete spendere almeno 150-200 dollari affinché la spedizione sia gratis Quindi insomma ho pensato più marchi europei E in questo caso io sto facendo vedere solo donna Ma in realtà in alcuni siti ci sono anche i saldi per l'uomo o per i bambini Quindi per andare veloce vi faccio vedere la parte saldi da donna Ma guardatevi anche voi attorno mentre vi faccio vedere questi siti Tenete gli occhietti aperti per vedere se trovate qualcosa che vi interessa anche per vostro marito, ragazzo o figli Bellissimo questo verde, ma io vi dico quello che mi comprerei Comunque anche questa maglia bianca mi piacerebbe molto, la gonna, a me piacciono un sacco queste cose un po' largone ma minimal Anche qui comunque insomma i prezzi sono molto buoni devo dire Andiamo avanti Ecco qua parliamo di Esos, comunque basta cercare qua, vedete l'ho già scritto Eco Edit Sale Così vi trova già i saldi nella sezione Eco Edit e troverete i marchi Eco Edit che ha Esos Attenzione non sono marchi totalmente sostenibili Si parla di quella sostenibilità un po' a metà nel senso che magari la sostenibilità è soltanto il fatto che utilizzino materiale riciclato, materiale organic Ma della lavorazione non si sa molto Sono comunque cose abbastanza economiche Voi vedete tutti i prezzi in dollari e in euro costeranno ancora meno Quindi 28,50 dollari sarà circa 25 euro C'è Maternity, c'è Petit, c'è Esos Store, vedete ci sono un po' tutte le categorie però fanno parte dell'Eco Edit E qua dentro potete trovare anche se andate per brand ad esempio e mettete People Tree che vi dicevo prima People Tree, vedete che lo vendono anche loro Io qua sempre da Esos ho comprato i maglioni perché mi conviene a me comprarli da Esos soltanto perché essendo negli Stati Uniti Ah questa la compro, ragazzi questa la compro con voi Adesso mi metto qua e la compro assolutamente perché io questa t-shirt la voglio Don't underestimate the power of the woman Questa è fantastica Oddio le taglie non le so mai Controllerò dopo se sono una US 6 oppure no Poi per i maglioni questo è un marchio spagnolo di cui avevo già parlato che è bellissimo E conviene assolutamente comprarlo in saldo perché altrimenti è veramente molto costoso Anche con i saldi risulta costoso secondo me I maglioni da 275 arrivano a 235 euro È costoso ma penso sia fatto molto bene Non ho mai comprato Hanno anche bambino Vediamo bambino Ok 115 euro è veramente costosetto Però è fatto molto carino, molto bene Se volete investire un po' di soldi vi conviene farlo assolutamente nei saldi Passiamo ad un altro marchio Mata Traders Loro non sono sicura Penso che però anche loro siano inglesi Ma producono in India In qualche factory sostenibile Infatti magari potrei usare loro come esempio per il prossimo video In cui vi mostro dove andare a cercare le informazioni sulla sostenibilità Perché mostrano proprio tutto il processo E come vedete hanno prezzi molto buoni Questi sono sempre dollari Quindi poi dovete controllare che in euro costaranno un pochino meno Da vedere il prezzo Quindi non è 75 dollari Sarà 70 euro Molto estivo eh devo dire Non vedo molto saldo invernale Ma forse me lo sto perdendo io Poi passiamo a Bibico Bibico anche questo Molto carino E abbastanza abbordabile Sono in sterline qua i prezzi Però anche qua ci sono maglioni Si passa da appunto maglioni Shirt normali A vestitini Anche loro inglesi Anche questo molto consigliato Perché è carino Da loro non ho ancora mai comprato Questo tra l'altro è uguale A il maglione lazari che ho io Questo qua costa anche meno Poi c'è Alternative Apparel Questo invece è statunitense Entriamo nei saldi Tra l'altro c'è sia una sezione Di shop sale Che è uno shop last chance Proprio gli ultimi Gli ultimi saldi Andiamo subito a ficcarci Nel last chance Vediamo che super affari Possiamo fare Possiamo prenderci Una maglia viola Una maglia rosa No in realtà Guardate quanti colori Disponibili ancora Questo è un Gli vestiti molto base Però vedete che i prezzi Sono fantastici Cioè 10 dollari Una maglietta Perfetto direi Final sale 20 dollari il vestitino Vediamo i saldi normali Direi comunque Umbra 7 dollari Ottimo Come prezzo Scarpe 46 dollari Buono Se siete persone sportive Che amano vestire comodo Questo è un buonissimo brand Poi Eileen Fisher Che io adoro Americana Oddio sì Penso Sì americana Esatto Perché trovo Ci sono i suoi negozi In New York È bellissima Costosissima Ma fa i saldi Quindi se volete Approfittarne dei saldi Vabbè Vediamo Facciamo shop hall Così Vediamo che cosa Ha da offrire Io veramente adoro Questo marchio Lo trovo elegantissimo Carino Beh queste sembrano Un po' da vecchietta Le cose Però vi assicuro Che fa cose Molto carine Molto eleganti Però appunto Cioè vedete Il prezzo di partenza 238 dollari 498 dollari Vabbè È cashmere Seta Quindi Il prezzo Probabilmente Deriva dal fatto Che i materiali usati Sono veramente Molto buoni E sicuramente Conviene comprare Eileen Fisher Durante i saldi Bellissimo Questo colore Rame Che sta andando Di moda adesso Poi Andiamo avanti Anche Sisu Luxury Ecco qua State attenti Ad esempio Free US shipping Vuol dire che An easy returns In questo caso Non lo so Quanto Cioè quanto Dovete spendere Affinché sia Gratis Lo shipping Dagli Stati Uniti Comunque Anche loro fanno I saldi Last chance Sale Andiamo a vedere Anche qui Se amate vestirvi Minimal Fanno cose Molto carine E anche in questo caso Conviene assolutamente Comprare con i saldi Anche se i saldi Non sono pazzeschi Perché Comunque Sarà il 10% Di sconto Non di più Comunque Insomma Male non fa Prendersi lo sconto Finisterre Se invece cercate Delle giacche Ad esempio Finisterre È un marchio Inglese C'è sia uomo Che donna Io vado sempre Da donna Però Se siete curiosi Andate a vedere L'uomo E come vedete Ecco Utilizzano materiali Riciclati E ci sono anche Giacconi invernali A prezzi Abbastanza buoni Perché comunque 100 sterline È un prezzo Molto buono Maglioni Anche questo Sembra quello di Lazarin Diciamo che Va di moda Questo maglione Quest'anno L'ho proposto In tantissimi Prezzo ancora più stracciato Mi conviene venire qua Ragazzi Camice Da boscaiolo Le giacche Insomma C'è un po' di tutto Sempre Genere un po' sportivo Ma Come vedete C'è un po' di tutto Nei saldi Andiamo avanti Armed angels Sono tedeschi Loro Uomo Donna E anche bambino Tra l'altro Andiamo a vedere Nei saldi però Non c'è bambino Mannaggia loro Andiamo a vedere All style della donna Come vedete Stile abbastanza minimal Belle le righe Che è sempre importante Avere nell'armadio E si arriva a prezzi Abbastanza buoni Direi Quindi 55 euro È abbastanza buono Per essere fatto Con cotone organic E in maniera sostenibile Sì hanno cotone Hanno cotone organic Praticamente Più che altro Anche questa è carina Ah e tencel È un altro tipo Di tessuto sostenibile Anche questa mi piace Non fregherà niente Cosa mi piace a me Comunque Ve l'ho detto Ve l'ho detto Sto facendo anch'io Un po' Un Sto guardando Cosa c'è Carini Questi sembrano quasi Lazari Un po' come Come genere Andiamo avanti Sennò sono troppo tentata Fair trade wins Controllate in Italia Entro quanti soldi Vi fanno la spedizione Gratis Perché insomma Vabbè che a 150 dollari Diciamo che dovreste Comprare tre pezzi Più o meno Quindi tre vestiti O Eccetera Comunque trovate anche cose Per la casa Poi c'è Thoth Un altro marchio Inglese Free UK delivery Over 60 sterline 60 sterline Molto carino Da dire così Anche qua Ero già nella sezione Saldi Donna Però c'è anche Uomo E ci sono anche Le sustainable socks Che mi chiedete Molto spesso Dove posso trovare Delle calze Sostenibili Da loro E magari Le trovate anche In saldo Anche qui ci sono Di stili un po' Diversi Un po' femminile Un po' sportivo E devo dire che Comunque Il prezzo è molto buono Anche in questo caso Poi andiamo avanti Elizabeth Suzanne Lei Fa questi team Molto carini Anche qui i prezzi Sono un po' alti Vedete Si partiva da 360 dollari 180 Qua ci sono Degli scontoni Un 50% Di sconto Molto buono Bellissimo Questo Molto elegante Anche lo zoccolo Carino A me questi stili Piacciono molto Sold out Però attenzione Questi saldi Sono già in sold out Quindi si vede Che hanno pochi pezzi Sono rimasti Veramente pochi saldi Solo queste Sei cosine Gather and see Sempre inglesi Andiamo a vedere i saldi Loro sono Hanno uno stile Molto particolare Per donne Che osano Con i colori Con le geometrie Con i tagli Vabbè qua non si vede tanto Ma ecco Cominciamo A far vedere Quanto devono usare Le donne Per vestirsi Con i loro vestiti Però è molto carino Secondo me Anche questa Mi piace molto Su di me Sembrerei una tavola Da surf Ma magari su donne Più formose Starebbe meglio Questo sembra Velluto Ma Chissà se è veramente Velluto Comunque Prezzi un pochino Più alti Ma come sempre C'è un buono sconto Sarà un 25% Di sconto Mi viene da dire Questo verdone Anche va di moda Devo dire Lo vediamo Abbastanza spesso In questi saldi E hanno anche i costumi Attenzione Anche i costumi Quindi Ah questo è comodo Beh per Out of stock Perché tutte le cose Che mi interessano Sono out of stock Mannaggia E anche underwear Vediamo se hanno Anche uomo Che non mi ricordo Forse no Forse hanno solo donna Sì hanno solo donna Niente uomo Non mi dispiace Ultimo brand Che vi faccio vedere No non vogliamo Vincerne nessun premio Grazie È comodo Comodo c'è uomo Madonna Andiamo a vedere I saldi Anche qua c'è Saldo normale Clearance Clearance vuol dire Che stanno proprio Gli ultimi pezzi Stanno facendo I super sconti Infatti vedete Che i prezzi sono buoni E sono cose estive Quindi è proprio La collezione estiva passata Stanno finendo tutti i pezzi Della collezione estiva passata Andiamo a vedere invece Nei saldi Se c'è qualcosa Di più invernale Hemp Quindi canapa Organic Cotone Direi che invernale Invernale Non c'è niente Però insomma Si possono fare Affari estivi Ecco ragazzi Se voi avete Altri marchi Da consigliare Iscrivetele nei commenti Noi ci vediamo Al prossimo video Grazie per essere con me Ciao Ciao